Questo programma è stato presentato da Acqua Minerale San Benedetto Oggi con Enel hai un'offerta super formidabile Scegli il formidabile Dual Mobilità Con luce, Waybox e gratis fino a 10.000 km Solo fino al 31 dicembre Fai su enel.it o chiamalo 800-900-860 Qui troviamo convenienza e freschezza E tutti tagli di carne O come Giulia Perché spendere di più se con i prodotti Eurospin risparmio? Ma anche come Einstein? Ma no, sono Gigi Non ci vuole mica un genio per capire che qui la spesa è intelligente Dal 20 al 29 novembre Prosciutto crudo 100 grammi fresche fette A 1,99 euro La spesa è intelligente Naso chiuso a causa di virus e batteri Per non rinunciare a stare bene con gli altri Puoi provare l'acqua di mare di Rinazzina Acquamarina Con formulazione ipertonica In un gesto tre azioni Le congestiona, idrata la mucosa E aiuta a rimuovere virus e batteri Rinazzina Acquamarina Dopo tutte le ricette che abbiamo creato Avremmo potuto dedicarci ad altre E invece Abbiamo realizzato la sfoglia più sottile di sempre Per esaltare un ripieno ancora più cremoso Così il raviolo si scioglie in bocca Nuovi sfogliavelo Ancora una volta ancora più buoni E al bowling ci penseremo Da un euro arriva il gran finale del Black Friday Più bello bello che c'è Fino a venerdì 24% di sconto su migliaia di prodotti In negozio e online Perché un euro batte forte sempre A Loriana piaceva osservare la nonna Mentre preparava la piadina Con farina di grano romagnolo E tanto amore Sono passati gli anni Ma quella ricetta non è mai cambiata Loriana Passione per la piadina Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti